l'esigenza scolastica degli studenti ucrauni esili esuli scusate mi informo che la pubblicità dell'audizione odierna sarà assicurata anche tramite la trasmissione della web tv della camera dei deputati all'audizione è consentita ai deputati la partecipazione dal remoto in videoconferenza secondo le modalità stabilite dall'aggiunta per il regolamento della camera dei deputati nella riunione del 4 novembre 2020 ricordo ai colleghi che partecipano dal remoto che devono rendersi visibili soprattutto nel momento in cui svolgono il loro eventuale intervento e che non possono collegarsi da luoghi aperti al pubblico o in cui siano comunque presenti altre persone né da mezzi di trasporto l'intervento deve essere udibile per cui occorre assicurarsi di disporre di una connessione internet stabile al termine dell'intervento del ministro darò la parola ai commissari che intendono svolgere considerazioni opporre domande unitamente a tutti i colleghi presenti ringrazio il ministro per la sua presenza e gli do la parola per lo svolgimento della relazione a lei la parola signor ministro la ringrazio moltissimo per ringrazio moltissimo e mi scuso con voi se non posso essere in presenza purtroppo domenica sono stato riconosciuto positivo al covid e mi è residuato questo enorme raffreddore che mi confonde anche nella parola comunque spero di essere sufficientemente chiaro la mia relazione sarà poi inviata a voi direttamente alla segreteria dalla mio capo di gabinetto che ci ascolta che quindi vi invierà la documentazione che fa riferimento al mio intervento allora come dissi già altre volte noi abbiamo un sistema che ci permette di rilevare costantemente il numero degli studenti ucraini presenti nel nostro paese ma ci permette soprattutto di rilevare come sono presso quale istituzioni scolastiche e che tipologia di scuola fanno allo stato attuale stamattina sono presenti nelle nostre scuole 8455 ragazzi ucraini inseriti nelle nostre scuole di questi 1577 sono dell'infanzia 4172 della scuola primaria 2.000 della scuola primaria di secondo grado e 640 quella di secondo grado quindi come voi vedete sono largamente ragazzi della scuola primaria della scuola secondaria con un buon numero di ragazzi dell'infanzia e un numero invece sufficientemente ridotto di secondario di secondo grado abbiamo provveduto al loro inserimento e questi sono però dislocati in maniera diversa rispetto alle diverse regioni di questi 8.000 1888 sono nella regione lombardia 992 in emilia romagna 940 nel veneto e poi tutti gli altri poi sempre minori fino ad un minimo di 56 basilicate 36 molise l'andamento è stato diciamo ondate una prima ondata è stata fino al 20 di marzo dovevamo 2.700 studenti e poi sono diventati sostanzialmente 6.000 il 27 e da lì sono risaliti ancora fino alla giornata di oggi che come dicevo sono circa 8.500 8.455 per l'esattezza questi ragazzi sono stati inseriti nelle nostre scuole e sono stati accolti con grandissima attenzione in tutti gli ordini di scuola successivamente si sono potuti avvalere degli interventi che avevamo realizzati soprattutto di mediazione linguistica noi fin dall'inizio cioè fino dall'inizio di marzo avevamo provveduto a mandare circolari alle nostre scuole in modo da avere la possibilità fin da subito di poter dare delle indicazioni precise ai dirigenti su come operare successivamente abbiamo mandato altre tre circolari in modo da mantenere continuamente il legame con le nostre scuole in modo da mantenere costantemente viva anche il ritorno dalle nostre scuole come stesse avvenendo questo inserimento il primo problema dicevo è stato quello della parte linguistica della mediazione linguistica noi abbiamo messo a disposizione un milione ma il problema era di ritrovare personale che avesse capacità di essere effettivamente operatrice di questa mediazione linguistica in questo deve dire ha operato moltissimo la presenza della grande comunità ucraina presente in italia come sapete solo 240 mila ucraini presenti in italia che sono messi a disposizione e hanno permesso pressoché ovunque di garantire anche questa operazione importante di mediazione linguistica noi abbiamo a questo punto avuto molte riscontri positivi che dopo un primo momento di difficoltà sono riusciti a recuperare articolando in maniera diversa ad esempio una funzione che è stata importante che abbiamo realizzato in coordinamento col ministero ucraino dell'istruzione col ministro scarlett è stata quella di garantire la possibilità di mantenere anche un collegamento via via d'ad via formazione a distanza con la capacità che il ministero ucraino ha in questo momento di erogare corsi questo è stato possibile e poi si è vissuto per ragazzi più grandi cosicché in molte situazioni al mattino vi sono l'inserimento dei ragazzi delle nostre scuole e al pomeriggio vi sono almeno due ore di dati in ucraino erogato direttamente dal ministero ucraino della cultura in questo modo noi siamo in grado di articolare la situazione che è molto differenziata territorio per territorio ad esempio in friuli delle aree frontaliere sono stati offerti corsi sia di italiano che di sloveno così come in altre situazioni si è molto operato sulla capacità sostanzialmente di attivare i cpia cioè i centri provinciali per istruzione degli adulti per accelerare la formazione in lingua italiana di molti degli adulti che erano arrivati ma sono diventati cpia anche luoghi di formazione reciproca anche di quella parte di persone che le svolge la funzione del migliatore linguistico voglio rilevare che tutte le nostre strutture sono state attivate ad esempio le scuole in ospedale che sono attivate molto per ricevere ragazzi che venivano dagli ospedali così come vi sono situazioni molto interessanti in un paese vicino a bergamo è arrivato addirittura una struttura un orfanotrofio con il rispettivo insegnante con il rispettivo direttore stiamo parlando di 83 ragazzi che si sono istediati in un in un albergo e che a loro volta sono stati poi poi strutturati dei diversi ordini di scuole quello che noi abbiamo è che non soltanto la scuola statale ma anche la scuola paritaria si è attivata allo stesso momento cioè per darvi un'idea del momento in cui noi abbiamo 8500 8455 ragazzi di questi circa 7500 sono nelle scuole statali e 900 sono nelle scuole paritarie quindi come voi vedete vi è stato un ampio un'ampia risposta come abbiamo affrontato queste difficoltà voi sapete che la commissione europea fin dal primo momento ha permesso la possibilità di riformulare i fondi europei e ha però dall'altra parte messo a disposizione le sorse significative su quel procedimento che si chiama care care quindi e l'azione comune per i rifugiati europei questa comune azione per i rifugiati europei ha messo a disposizione dell'italia 49,6 milioni con una ripartizione però geografica è stata da 33,4 milioni per le aree per le regioni a meno sviluppo 3,3 per le aree e le regioni di transizione e 12,6 per le regioni a più alto sviluppo quindi questi 41,6 milioni sono disponibili però è vero che noi abbiamo il massimo di concentrazione oggi essenzialmente nelle regioni del nord però ho già parlato con la ministra carfagna per vedere se vi sono la possibilità di rinegoziare altri fondi europei essenzialmente la direzione del nord su tutto questo vorrei osservare un'ultima riflessione mi sembra che sia molto evidente e molto forte l'idea che noi oggi abbiamo in italia secondo le considerazioni che ci ha avanzato il ministero degli interni circa 25 mila minori su circa 70 mila rifugiati noi oggi ne ospitiamo 8.500 e quindi ci attendiamo che che possono richiedere perché a noi è richiesta la partecipazione di altri ragazzi fino almeno a 25 mila noi finora stiamo tenendo con le risorse che abbiamo però è evidente che nel momento in cui potessero arrivare altri ragazzi sarebbe necessario disporre di altre risorse ricordo che noi abbiamo potuto portare fino al 15 di giugno tranne per i ragazzi dell'infanzia che arrivano al 30 giugno il personale che avevamo chiamato covid e che doveva concludere entro il periodo di emergenza abbiamo potuto la possibilità di portare questo personale fino alla fine della scuola anche perché questo personale per cui abbiamo impegnato 170 milioni sono sostanzialmente persone necessarie per permettere la conduzione dell'anno scolastico in condizione di affrontare anche la nuova emergenza legata alla presenza dei bambini ucraini inoltre ricordo che sono stati messi a disposizione altri 30 milioni nel fondo per le scuole per permettere di affrontare le spese tipo mascherine o tipo tutti quegli interventi di sussidio che sono necessarie per arrivare a fine scuola ricordo inoltre che sono stati solo in corso di distribuzione fondi notevoli di react iu per quanto riguarda la distribuzione dei laboratori e per rinforzamento dei laboratori rispetto a questo noi stiamo preparando anche quest'anno come l'anno scorso un forte programma per l'estate il programma per l'estate in quest'anno sarà dedicato largamente all'integrazione dei ragazzi e dei bambini ucraini soprattutto per quanto riguarda la capacità di sviluppo di competenze linguistiche ricordo però quanto ci ha detto il ministro ucraino cioè della necessità di mantenere comunque attività formativa in ucraino per mantenere anche la continuità di bambini rispetto ai quali si considera che la priorità sia il ritorno in ucraina questo ce l'ha detto in tutti i modi il ministro ucraino sono tutte le autorità quindi noi stiamo facendo un inserimento che è importante un atto di inclusione che è necessario però avendo coscienza che poi dovremmo riaccompagnare questi ragazzi verso le loro scuole quando sarà opportuno e necessario questo è lo stato della situazione qui quindi mi permetto di riflettere allo stato attuale siamo 8.500 8.455 ragazzi inseriti già inseriti rispetto a questi ragazzi il ministro della sanità con le rispettive agenzie regionali per la salute hanno provveduto a garantire le condizioni di sicurezza sia per quanto riguarda il le vaccinazioni diciamo ordinarie l'esaparente per darvi un'idea sia per quanto riguarda la tutela e la verifica della situazione del comit il ministero degli interni sta garantendo con i prefetti la verifica di dove sono dislocati e dove sono alloggiati e noi stiamo agendo insieme con gli uffici scolastici regionali con le regioni per capire come si fa a fare l'inserimento che sia il meno traumatico possibile che sia in grado anche di cogliere quali sono le opportunità le competenze in cui loro stessi sono portatori devo dire che anche per le nostre scuole e si è dimostrata una risorsa notevole doversi misurare con questa esperienza in molte scuole ad esempio mi dicono che il veicolo principale in relazione di inclusione è stata o la musica o lo sport cioè attività di insieme però nel complesso così come la stavamo monitorando noi mi pare che la situazione venga percepita sia sotto controllo sono qui le faccio avere presidente contestualmente anche la relazione con tutto il dettaglio dei numeri che le ho fornito quindi prego il segretario il scusino prego il capo del gabinetto fiolentino grazie 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 molto ministro è appena arrivata stiamo distribuendo in questo momento la relazione quindi è già già disponibile darò ora la parola ai colleghi alle colleghe